ciao ragazzi ciao a tutti eccoci qua siamo tornati finalmente sì non vi abbiamo abbandonati no vi abbiamo pensato tanto abbiamo continuato ad aggiornare instagram e facebook ma non youtube perché perché è stato un mese folle un cambiamento di vita radicale radicale proprio e lo noterete già subito dalla location non c'è più la parete arancione ma c'è un fuoco arancione cosa che prima non avevamo esatto perché ci siamo trasferiti a vivere in montagna finalmente dopo tre anni e mezzo circa di ricerche eccoci qui in valle peseo in valle peseo nella nostra nuova casetta appunto allora cosa dire di questa nuova casetta siamo di questa nuova vita abbiamo rilevato dopo mille sacrifici dopo mille ricerche appunto durata più di tre anni e mezzo abbiamo girato lungo tutte le alpi cunesi dalla valle po alla valle tanaro finché non abbiamo trovato la casa che ci facesse dire wow la casa dei nostri sogni e infatti quattro mesi fa quattro cinque mesi fa l'abbiamo scoperta l'abbiamo trovata ci siamo subito affezionati sia al posto che alla casa ed eccoci qua siamo allora la storia di questa casa qua è molto particolare perché era un vecchio b&b fino al 2012 circa la cosa che più ci ha fatto innamorare di lei e le esposizioni e la vista poi vi faremo vedere anche vi racconteremo un po di montagne di dintorni eccetera eccetera un'altra novità da due mesi a questa parte nella nostra vita e lui la nostra mascotte eppi si stava mettendo a riposare lui è il nostro gattino che ama stare davanti al caminetto e mangiare paretore ha una vista spaziale l'appartamento è molto più grande rispetto a dove eravamo prima quindi lui qua proprio un albergo 5 stelle per lui e la nostra mascotte e nonché porta fortuna ma parliamo di noi cosa dire di dove siamo venuti a vivere allora prima di tutto la valle e la ciao eppi ciao eppi è stato bello averti un po un braccio cocoloso la valle e la valle pedio abbiamo una vista stupenda sulle montagne e la montagna principale di questa di questa valle è il margaret assieme in parte anche alla bisalta esatto e quindi riusciamo a vedere dalla nostra casa sia il margaret sia la bisalta infatti da qua è comodissimo a partire appunto per fare le escursioni e andare sulla bisalta cosa che prima o poi faremo perché da cune sotto questo punto di vista ci sentiamo in colpa perché non abbiamo mai non siamo mai saliti sulla bisalta la bisalta ci manca ma prima o poi visto che è qua vicino cosa abbiamo scelto dopo appunto tutti questi mesi di ricerche volevamo andare a vivere in un posto dove eravamo almeno inizialmente poi nel futuro chissà gli unici residenti fissi tutto l'anno questa è una piccola borgata sotto il comune di peveragno si chiama il nome della borgata è proprio sotto il comune di peveragno la borgata si chiama tetto caban ma casa nostra esattamente la parete che c'è qui la mia destra è il confine territoriale di un altro comune ovvero il comune di chiusapeseo che è l'unico comune di tutta l'interna vallata esatto è un po' una particolarità questa che noi viviamo in una borgata che è sotto un comune ma in realtà casa nostra è sotto un altro comune questo poi è una cosa che piace dando i corrieri si esatto stiamo vedendo che non è così facile dare le indicazioni per venerci a trovare venerci a fare dei lavori perché appunto tutto è riguardo al comune di peveragno ma casa nostra invece è quello di chiusapeseo esatto e ci sono due strade che portano ma quella che porta parte da chiusapeseo è serrata e praticamente quasi impossibile è possibile però è un po' è un frodo fuori strada tutta starrada mentre quella che arriva da peveragno è molto più bella molto più tranquilla e però è così a noi le cose semplici non sono mai piaciute no no non mi piace proprio esatto la cosa veramente particolare di questo posto rispetto a tutte le case che avevamo visto prima d'oggi e che qui regna veramente il silenzio e la natura più incontaminata non vi sono auto che passano di continuo anzi molti giorni siamo solamente noi e qualche piccolo animale che è tipo il tasso che ultimamente alla sera ci viene a visitare i cinghiali i cinghiali i caprioli ogni tanto si sentono ed è quello che cercavamo da anni cioè che volevamo uscire dagli schemi della nostra vita quotidiana fatta di viaggi di gente tutto intorno a noi per il comodità esatto ci rendiamo conto che la vita giù è molto più comoda ci sono i servizi a portata di mano qui siamo completamente immersi nella natura perché siamo circondati da boschi, dal verde, dalla natura ma allo stesso tempo siamo molto vicini comunque alla civiltà perché si può dire che siamo isolati ma non siamo isolati perché appunto l'abitato di Prateboni esatto e a 2 chilometri da noi che è una piccola frazioncina di Pederagno e l'abitato più grande che quindi per fare la spesa per procurarci i viveri e tutto un po' è a 10 minuti quindi siamo sì isolati ma come diceva Simone veramente veramente comodi a tutto poi ora siamo ancora meno isolati perché da 8 giorni a questa parte siamo riusciti a trovare un accordo con una compagnia che ci ha portato tedesca che ci ha portato internet satellitare così possiamo lavorare anche e produrre video per voi allora devo dire la verità mi fa un po' impressione perché di solito quando parliamo con la telecamera stiamo cucinando stiamo lavorando e questa è una sorta di auto intervista fatta perché in tanti ci avete scritto soprattutto su instagram come avete preso questa scelta cosa avete intenzione di fare raccontare un po' come è successo il tutto esatto e allora ci stiamo provando ma è la prima volta che ci troviamo faccia a faccia soli noi con la telecamera e quindi questo se sembrava due embranati che in realtà lo siamo è tutto normale cioè siamo così in questo primo mese cosa abbiamo fatto? cosa abbiamo fatto? stiamo cercando innanzitutto abbiamo portato su un sacco di scatoloni come avete visto nelle stories il classico di tutti i traslochi abbiamo però in questo primo mese di vita in montagna cercato di entrare un po' negli schemi, negli meccanismi della vita perché noi qui siamo a 900 metri di quota circa e quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto la legna, abbiamo fatto il pane abbiamo sparato perché di neve ne è già arrivata tanta a mio avviso ne è già arrivata a tuo avviso no perché alla fine diciamo che in tutto quello che è successo in questo mese siamo anche diventati due agricoltori perché abbiamo aperto la partita IVA d'agricolo perché in questa casa, in questo caso oltre alla casa abbiamo anche acquistato dei terreni circa 15.000 metri e quota di boschi di castagni in primis e dei terreni e vorremmo a lungo termine fare anche contadini sì quindi dedicarci molto all'agricoltura al raccolto delle castagne patate, fare l'orto tutte queste cose qua che prima non potevamo fare perché non avevamo lo spazio esatto e il tempo per fare quello e in più abbiamo comprato tofu che qualcuno di voi non lo conosce ancora in realtà tofu è il nostro trattore è il migliore amico di Simone esatto da un mese a sta parte soprattutto quando nevica perché io da quando ero piccolo sognavo di guidare uno spazzaneve sì e ora sono diventato mister spazzaneve della nostra porcata perché vado su giù con lo spazzaneve per togliere la fiocca la fiocca abbiamo un forno a legna l'abbiamo già provato a fare il pane due volte stiamo imparando un signore di Pradeboni ci ha insegnato alcune tecniche per fare il pane però anche lui giustamente ci ha detto dovete provare e riprovare ancora e riprovare ancora perché comunque la prima volta l'abbiamo fatto sembravamo quasi dei panettieri nati la seconda volta abbiamo fatto dei panettieri falliti falliti subito perché il pane era crudo vabbè sono dettagli però si farà e si capisce però abbiamo la fortuna da quando ero qua di aver conosciuto tantissime persone continuare a scoprire tantissime persone che ci stanno dando una mano consigli nuove amicizie stanno nascendo e questo è molto bello e tra l'altro una delle cose che ci piace di più di questo posto è che tutte le persone che abbiamo conosciuto sono veramente speciali e ti danno tanto a partire proprio dalla semplicità sì ed è quello che cercavamo un po' che raccontavamo un po' anche prima di venire a vivere in montagna che la nostra filosofia di vita è partire dal semplice per raggiungere il bello o meglio non per raggiungere per ammirare meglio il bello che ci circonda e questo è gratitudine pura e dovete sapere ma lo scoprirete poi nei prossimi video che lei taglia la legna da Dio perché in tutti questi giorni abbiamo pure putato giù una betulla e poi l'abbiamo segata non si vedono perché è largo ma no perché sono fortunata di essere cresciuta in una famiglia di agricoltori e quindi da piccolina facevo aiutavo ogni tanto non sempre non ho questa no però è una roba che però ho avuto la fortuna di imparare a fare questa e quindi mi viene un po' più semplice devo ancora imparare tante cose però i primi 15 quintali di legna per l'anno prossimo per l'anno prossimo l'abbiamo fatta ma tutto questo vedrete in un altro video perché quello che vorremmo fare è appunto da oggi si può dire raccontare la nostra vita in montagna come due giovani abbiano deciso di andare a vivere in montagna e diventare a lungo termine dei montanari e non come diceva il nostro amico Sandrino due patachindlapiana che è un termino un po' buffo per descrivere quelli che vivono in pianura ovvero quello che noi eravamo fino a un mese fa ma si che lo siamo ancora un pochettino tuttora io non mi sono mai sentito lui si sente già montanare in realtà siamo appena arrivati dai l'entusiasmo che abbiamo è smisurato perché qui c'è da imparare tanto tantissimo dalla matura da tutto quello che facciamo dai lavori sembra pazzesco forse come molti penseranno come due giovani abbiano preferito lasciare tutto le comodità per andare in un posto dove si non ci lamentiamo comodità ce ne sono anche qua perché come dicevamo prima in dieci minuti c'è tutto però sono in tanti che ci dicono mamma mia che coraggio esatto che siamo state due persone molto coraggiate per vivere ad esempio da soli qua sopra noi qui ora vorremmo fare i contadini montanari e altre cose che spiegheremo tra poco però cosa importante noi vorremmo continuare le nostre attività di fotografia e video per promuovere ancora di più le montagne cunesi in questo caso partendo proprio dalla Valle Pesio esatto ma al tempo stesso vorremmo riaprire l'attività recettiva che vi era qui in tempo sì fino a otto anni fa giusto? otto anni fa 2012-2013 appunto questo era oltre a casa abitativa dei vecchi proprietari era un B&B e noi vorremmo riaprire questa questa attività sotto forma di B&B e ora dobbiamo ancora studiarci bene non lo sappiamo dobbiamo ancora studiare bene personalizzandolo un pochettino a nostro a nostro gusto esatto e allora nei prossimi mesi ci metteremo anche a lavorare per appunto rendere le camere ad hoc o meglio a far sì che le camere l'idea struttura possa rispecchiare sempre di più la nostra personalità perché la nostra idea appunto è che quello che sarà un B&B o meno si chiamerà appunto i due vagamondi tra l'altro io vi chiedo scusa se sentite dei gran rumori in sottofondo ma c'è Eppi che è saltato sul tavolo e sta mangiando del cartone e buttando giù tutto è normale penso noi siamo in apparati quindi non approfitto esatto e intanto chi di voi verrà a trovarci capirà quanto è Eppi il nostro gatto sì proprio te proprio tu cucciolo allora stavamo dicendo torniamo a impappinarci vabbè vorremmo portare anche un po' di mondo che abbiamo visto negli ultimi anni in Brugge e Cuneo e far sì che si crei appunto questo ambiente sereno pacifico quindi la nostra idea sarebbe poi anche di fare corsi di yoga meditazioni camminate nei boschi e noi stessi ci metteremo al più presto a studiare i castagni i castagneti perché vorremmo vivere anche di agricoltura farci la legna ma non solo vorremmo documentare tutto questo tutto quello che facciamo cercando di farvi capire da come siamo partiti a quello che sarà quello che riusciremo a fare per noi adesso dopo un mese che siamo qui pensavamo di riuscire a ritagliarci più tempo per leggere per goderci la nevicata in realtà se uno vuole vivere in montagna da montanaro passatemi termine montanaro perché ci diventeremo come abbiamo detto prima da qualche anno si spera c'è veramente tanto da fare perché la nevicata diventa un lavoro il bosco diventa non è solo uno svago ma è di nuovo un lavoro sistemare una casa così grande per preparare per gli ospiti è un lavoro però sicuramente essendo appena entrati essendo solo un mese che siamo qua anche noi dobbiamo appunto imparare quindi non riusciamo a ritagliarci del tempo perché comunque abbiamo tutto tutto da fare scatoloni arriva la prima nevicata imparare a usare il trattore e quindi è normale pensavamo come diceva Simo di arrivare qua e fare i nostri lavoretti poi come prima sai tranquilli però ma va bene così le giornate sono belle intense non ci annoiamo no e forse questa nostra iniziale difficoltà tovace degli spazi è anche in parte dovuto al fatto che erano comunque otto anni che la casa non veniva più vissuta quotidianamente esatto perché comunque qui sono otto anni che i proprietari non vivevano più soprattutto d'inverno non c'era proprio nessuno quindi giustamente la casa bisogna rimetterla un attimo in sesso e cercare il bosco anche che è stato un po' trascurato e quindi pian pianino passo dopo passo cercheremo di renderla ancora bella rispetto a come l'abbiamo trovata sì e al tempo stesso chiave di lettura di tutto questo dobbiamo uscire un po' fuori dagli schemi della frenesia della pianura della città perché a volte i primi giorni ci svegliamo con l'affanno di fare questo questo in realtà in realtà le ore di sole soprattutto di montagna in inverno non sono tantissime anche se ci riteniamo fortunati perché ad esempio ora che sono i giorni più corti dell'anno noi abbiamo il sole dalle otto e mezza da 9 del mattino fino alle 3 e mezza del pomeriggio quindi siamo fortunati infatti parlando apro una parentesi è nevicato la scorsa settimana qui si è già abbassata la neve più della metà si è già andata via perché siamo esposti amo prima Romina mi prendeva in giro io sono follemente innamorato della neve tutti voi lo sapete già però al tempo stesso mi piace vederla scendere mi piace spalarla ma è molto più importante soprattutto se uno vuole vivere fare anche dell'agricoltura e del turismo che la casa anche per un aspetto economico che la casa sia bene esposta questo potrebbe anche essere già un consiglio per voi se cercate un'abitazione in montagna cercate che sia almeno esposta a sud e non propriamente a nord perché noi diciamo oggi siamo in primavera perché ci sono 7-8 gradi e il sole si sta da dio cioè siamo realmente in inverno ma climaticamente in primavera mentre la montagna è di fronte a noi dopo una settimana di neve ha ancora gli alberi innevati carichi di neve quindi noi abbiamo l'inverno di fronte ed è questo comunque un aspetto fondamentale per cui ci ha portato a scegliere questa categoria rispetto ad altre perché a lungo termine è ottimo sia a livello salutare che economico perché consumi meno legna meno riscaldamento tutto quello che riguarda riscaldamento salute è importante ma al di là della montagna è proprio l'acquisto di una casa esposta bene è la chiave per vivere secondo me bene e anche per la questione di strade di logistica se uno vuole vivere e essere un po' comodo con la macchina noi in questo caso ci troviamo con una strada pulitissima mentre quando si sbalica dietro alla montagna che è alle nostre spalle è ancora inverno quindi c'è ancora il ghiaccio e questo aiuta e non poco noi per fare i lavori che stiamo facendo una cosa che faremo appunto è presentarvi oltre a noi stessi e la nostra vita quassù anche prendere la nostra rubrica dei giovedì della cucina sì continuare con alcune ricette tipo la bagna cauda tipo la bagna cauda sì perché no tipo la bagna cauda tipo la bagna cauda che è uno dei piatti tipici piemontesi forse da Torino in giù si mangia soprattutto forse da Torino da Torino oh porca miseria a Cuneo si mangia si mangia perché come dico sempre viva la montagna bagna cauda viva la bagna cauda viva la montagna sempre ma soprattutto viva Cuneo efi ciao ragazzi alla prossima ciao ciao amore andiamo a prendere una linea dai via non era compito tu vuoi guardare andiamo a prendere la linea efi romina andiamo a prendere la linea chiamo vieni efi